Illustrati i risultati del progetto Go Green a Puglia Go, che promuove l'imprenditorialità giovanile nel campo della green economy, ossia quelle imprese che concorrono alla tutela dell'ambiente. Ieri nell'aula del Consiglio regionale presentati i risultati del progetto curato da Lega Ambiente Puglia. Che cos'è la Puglia dei green jobs? Con questo progetto abbiamo voluto sensibilizzare i giovani dei 19-35 anni sui green jobs, che sono in continua evoluzione, richiedono una competenza specifica. Li abbiamo elencati in questa guida, sono ben 125 a livello nazionale, dall'eco-avvocato all'eco-chef, al bio-ingegnere, al mobility manager, all'energy manager. Ma abbiamo raccontato in questa guida anche la Puglia della green society, cioè chi fa impresa puntando su innovazione, ricerca, qualità, sostenibilità, chi nei processi produttivi o nell'erogazione di servizi applica il modello dell'economia circolare, chi vede la tutela dell'ambiente non come un limite, ma come un valore, come un sviluppo economico. Tante le esperienze che abbiamo raccontato nella guida, ben 42, da chi produce tavole da self ecosostenibili, a chi rigenera le acque reflui per produrre bioplastiche, a chi utilizza il materiale di scarto per produrre oggetti di design, a chi promuove la raccolta differenziata durante le sagre e i concerti, le manifestazioni culturali. Ricordiamo che dai dati del rapporto Green Italy, di fondazione Simbola e Union Camere, le imprese che in Puglia hanno puntato sull'economia circolare dal 2011 al 2016 sono ben 22 mila. Ecco perché noi vogliamo con questo progetto anche continuare a monitorarle, metterle in rete, valorizzarle. E per questo chiediamo oggi alla Regione Puglia, Confindustria, Union Camere e Università, di creare un osservatorio permanente sulla Green Economy. Io rappresento il centro di fisiche di ILE, siamo operativi sul mercato da oltre 10 anni e abbiamo intrapreso la sfida che ci impone, tra virgolette, la Comunità Europea di ridurre drasticamente l'inquinamento causato dagli edifici. Questo vuol dire una nuova generazione di edifici che, oltre a consumare drasticamente meno rispetto a quelli che sono i consumi classici di bolletta, di inquinare in maniera quasi nulla, cioè ridurre drasticamente anche l'inquinamento. Questo è necessario attraverso una rimodulazione dell'intero processo. La nostra attività è quella di seguire le imprese in questo cambiamento verso una nuova generazione di edifici. Noi ci occupiamo di riciclo di materie plastiche, di creazione di nuovi polimeri bio-based, quindi compatibili con l'ambiente, e di applicazioni sia tradizionali, nel nostro caso sacchi per raccolta differenziata e sistemi di controllo cittadino, e applicazioni sull'industria 4.0 e nella fattispecie stampanti 3D. Perché è importante, in qualche maniera, impegnarsi e sviluppare la green economy e quindi creare tutta una serie di altre aziende, anche formate da giovani, che si impegnano per la sostenibilità ambientale? Il primo vantaggio è per l'ambiente, quindi il rispetto dei luoghi che viviamo. In secondo luogo c'è un vantaggio effettivamente economico, perché recuperare le risorse e nel nostro caso produrre nuovi oggetti dà un valore in più a quello che sarebbe uno scarto. Per chi fa impresa, conviene? Conviene e converrebbe se la burocrazia fosse un po' più snella.